Lo aspettava all'alba per le vie di Borgo, per un'intervista accolta e concessa sempre con gentilezza. Ne ha seguito la vita come vaticanista e ora ce lo racconta, soprattutto in quegli anni dopo la rinuncia al pontificato, unendo il mestiere di cronista alla profondità spirituale evocata dalla personalità delicata e rigorosa di Benedetto XVI. Io con lui sono cresciuto dal punto di vista giornalistico vaticanista e quindi gli dovevo questa riconoscenza, questo libro che racconta questa vicenda dalla quale emerge un aspetto molto molto particolare. Lui è stato un grande riformatore della chiesa del terzo millennio, con che cosa? Con rispetto intanto della tradizione, ma poi facendo capire che un Papa si può anche dimettere, facendolo naturalmente, rispettando cosa? Quello che è previsto nel codice di diritto canonico. Poi ho detto prima un grande maestro di dialogo, di attenzione agli ultimi. Sulla scelta di quell'11 febbraio di dieci anni fa molto è stato scritto, spesso però tralasciando una chiave importante, la preghiera, per un uomo che ha vissuto l'appartenenza ai misteri e alla fede della chiesa con un'intensità senza pari. Questa è la cosa che mi ha colpito. Lui ha dato una lezione di preghiera, lui ha detto io non ho più responsabilità di governo, sono al servizio, al servizio di Papa Francesco, però serve la chiesa con la preghiera. Questo discorso della preghiera per me è stata una chiave di lettura degli ultimi dieci anni. Cioè la preghiera è una cosa seria e lui ce l'ha dimostrato con l'esempio, stando per dieci anni in silenzio accanto alla tomba di San Pietro e al servizio di Papa Francesco. Questo va ricordato, è stato un servizio alla chiesa insieme come un padre e un figlio e lui ecco mi ha colpito il discorso. Un gigante della teologia io prego tutti i giorni e questo secondo me è l'ascito bellissimo di Papa Ratinger, la preghiera ecco perché crede ovviamente. E ora alcuni consigli di lettura tra saggistica e narrativa spaziando tra contemporaneità e classici. Eccovi un Gogol, inedito e sorprendente. L'editore Aragno pubblica scritti spirituali e religiosi dell'autore delle anime morte, opere che stupirono perfino Dostoevsky. Torna invece al romanzo Giorgio Nisini, già nella dozzina dello Strega con la città di Adamo, ora pubblica Aurora, quasi una rilettura contemporanea della bella addormentata dei fratelli Grimm. Ci guida invece nell'universo dei colori Lauretta Colonnelli, svelandoci tra storie e capolavori la loro vita segreta.